buongiorno ragazzi buongiorno allora avete da poco completato il vostro compito di storia e a dire la verità la lezione in asincrono che io avrei dovuto farvi oggi in realtà avrebbe dovuto essere una lezione in asincrono inerente il latino però insomma mi sono fatto due conti siccome ci sarebbero stati degli esercizi da da fare questo sarebbe stato estremamente complicato allora niente facciamo in questo modo facciamo che la lezione di oggi in asincrono è una lezione di storia va bene quindi avete fatto il compito avete chiuso quella quella pratica adesso riprendiamo con storia e poi la prossima lezione in asincrono quindi dovrebbe essere per forza di latino vediamo come fare ma per ragioni didattiche mi è sembrato meglio anziché fare latino perché come avrei dovuto fare come avremmo come avremmo potuto guardare gli esercizi eccetera quindi va bene così per il punto in cui in cui siamo che è più pratico che teorico sarebbe stato ottimo da questo punto di vista di vista essere in regolarmente in aula allora ragazzi finalmente potete prendere il libro sette mari volume 2 va bene sette mari volume 2 con questa bellissima immagine e fate in questo modo aprite e andate a pagina 10 trovate a pagina 8 a pagina 9 paginone una doppia pagina dice sezione 1 dall'età di cesare all'impero con una bella fotografia del colosseo quantunque i colori sono un po' strani sembra una fotografia tipo vecchio stile vinto vintage bene a questo punto girate paginetta e andiamo a pagina 10 dunque c'è questa chiave di di lettura ma questa io non l'apprezzo tanto preferisco che la leggiate alla fine del proprio di tutto il capitolo oggi io vorrei portarvi fino alla campagna di pompeo contro i pirati vediamo se ci riusciamo dopodiché mi sarebbe piaciuto consigliarvi un libro però allora non saprei vabbè facciamo così vi metto in presentazione vi scrivo il titolo di questo libro nella speranza di ricordarmi bene sia l'autore che il titolo anzi non ricordo perfettamente ok si mi sono ricordato allora è un libro molto bello che si legge come se fosse un un romanzo e una lettura come dire molto figa molto come dire abbastanza non tradizionale particolare l'autore è jérôme anche se forse c'è qualche simbolo che mi ha aggiunto su questo su questa parola jacopino è un libro che ha qualche decennio ma è stupendo e si chiama la vita quotidiana a roma e la casa editrice almeno quella che io mi ricordo era editrice la terza possiamo in questo senso immediatamente vedere con una velocità abissale se lo troviamo vediamo un po coccato p no è visto che qua jérôme copino perfetto ed è da questa esattamente la l'edizione che ho io o meglio la copertina che ho io però io precedente al 2005 come vedete le recensioni di questo libro di coloro che l'hanno comprato sono tutte entusiastiche ci hanno dato tutti e tre 5 stelle un libro bellissimo che si legge con estrema facilità e che non è nemmeno tanto caro come vedete 11 euro e novembre sarebbe 14 euro il prezzo il prezzo intero va bene allora ok dunque ragazzi di cosa parliamo oggi parliamo di una nuova realtà della nuova realtà che si crea a roma dopo 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 l'esperienza della dittatura sillana che come vi ricorderete si sia dall 82 al 79 avanti 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 cristo poi una cosa che mi piacerebbe fare che mi piacerebbe che faceste sarebbe quella di farvi vedere un bel film una bella ricostruzione della storia romana con tante imperfezioni con molta vicenda storica romanzata che però ci permette di entrare un pochino con una specie di full immersion nella storia romana e che si chiama giulio cesare però questo ve lo dirò dopo si può fruire in questo momento gratuitamente su prime video quindi è una vale la pena vederlo è un film non volgare vale la pena vederlo però questo ve lo spiegherò più avanti allora ragazzi cominciamo cominciamo subito cominciamo subito e vediamo un poco allora abbiamo visto che quindi c'è stata questa vicenda della dittatura di silla le vicende che hanno visto anche confrontarsi mario gaio mario e lucio cornelio silla con la guerra civile tremenda che fu combattuta a roma che fu combattuta a roma portò tutta una serie di conseguenze allora intanto vediamo questo quando ancora silla nel suo vi ricordate no che nella sua dittatura egli aveva creato aveva inventato o meglio non aveva inventato niente aveva applicato il criterio delle liste di proscrizione all'interno delle quali liste di proscrizione c'erano tutti coloro che in maniera assolutamente arbitraria erano stati individuati segnalati come nemici della res pubblica ossia nemici dello stato attenzione che res pubblica l'espressione latina res pubblica si deve tradurre con stato e state attenti che stato non tutti lo fanno però io appartengo alla categoria di quelli che lo fanno lo trovo molto più corretto da un punto di vista proprio grammaticale e semantico andrebbe scritto stato la parola stato andrebbe scritta maiuscola va bene allora dunque le liste di proscrizione era abbiamo visto erano qualcosa di terribile era stata data licenza di uccidere persino agli schiavi in relazione ai propri padroni o persino ai figli relazioni ai propri padri ai propri padri allor quando costoro padroni per gli schiavi genitori per i figli allor quando i genitori questi genitori fossero annoverati tra i proscritti qualche cosa di tremendo inoltre inoltre per favorire l'eliminazione fisica di questi nemici abbiamo visto che addirittura era stato previsto un compenso in termini proprio monetari ci siamo allora nella del delirio nel terrore creato da silla durante la sua dittatura ci fu tra gli altri un tale quinto sertorio va bene quinto sertorio vediamo se riesco ecco qua perfetto allora quinto sertorio questo quinto sertorio questo quinto aspettate perché credo di non essere in e visto l'avevo meno male che me lo sono ricordato ragazzi allora ecco qua benissimo fantastico ok il signore te lo paga allora dicevo dicevo ragazzi dunque scusatemi allora ho perso mezz'ora di lezione perché mi ero dimenticato di mettere in presentazione allora questo quinto sertorio questo quinto sertorio era stato un generale un generale romano va bene era stato un generale un generale mariano era stato un generale mariano generale mariano il quale essendo per l'appunto un fa utore di mario era rientrato nelle liste di proscrizione tuttavia egli era riuscito a sfuggire alla proscrizione quindi si era salvato ed era scappato in spagna quindi nella nella penisola iberica ora mettiamo un attimo il una bella cartina mettiamo un attimo una bella cartina e vediamo google immagini mettiamo mediterraneo mediterraneo primo secolo avanti cristo quindi dovremmo è fantastico superbo bene eccoci qua dunque apriamo qui apri immagine in un'altra scheda fantastico ci siamo ragazzi allora e ce la possiamo tenere bella aperta questa questa cartina in parla della repubblica delle conquiste romane nel secolo nel secondo secolo avanti cristo ma in questo momento teniamoci questa ragazzi poi da la cambiamo va bene poi la la cambiamo purtroppo non ho avuto il tempo di cercarle prima di avviare la registrazione e allora cosa abbiamo visto che il nostro eh quinto eh quinto sertorio ex generale mariano eh si va a ehm si va a eh rifugiare in Spagna ma va detto che la Spagna la Spagna sia ulteriore che citeriore la Spagna o meglio gli spagnoli o meglio ancora gli iberici non è che erano stati esattamente entusiasti eh entusiasti siamo sempre in presentazione sì entusiasti eh di questa eh dominazione eh romana anche perché abbiamo visto come agivano i proconsoli i proprietori come agivano i pubblicani vale a dire gli esattori delle tasse e allora ecco che ehm molte delle popolazioni delle province romane se avessero potuto avrebbero eh tranquillamente abbandonato Roma. Quando arriva questo quinto sertorio eh in rotta di collisione con Silla allora questi arriva in Spagna e si inventa in Spagna un governo autonomo seguitemi bene un governo autonomo che significa questo in soldoni concretamente in soldoni e concretamente significa che questo signore aveva creato una fedizione una una realtà di ribellione e la cosa importante è che questo eh quinto sertorio nella sua creazione di un governo autonomo autonomo vuol dire indipendente da Roma aveva trovato l'appoggio delle popolazioni locali appunto perché queste non gradivano la subalternità e l'assoggettamento a eh Roma. Uno può dire ma scusami questo non era un romano? Certo che uno può dire questo non era un romano come mai questi appoggiavano un romano? appoggiavano un romano perché questo probabilmente per cercare alleati che cosa faceva? Eh magari prometteva eh o delle regalie oppure prometteva eh delle tutele dei diritti rispetto di una serie di diritti magari prometteva meno tasse magari prometteva ehm più autonomia a ciascun singolo popolo cioè prometteva sicuramente una situazione migliore rispetto a quella che in qualità di provincia eh la Spagna ulteriore la Spagna citeriore vivevano. Ecco che quindi eh per quinto quinto sertorio in Spagna riesce a formare un bel esercito di truppe molto allenate e di truppe ehm fedeli a lui e comincia una vera e propria guerriglia. Perché la guerriglia? Intanto cos'è la guerriglia? Allora attenzione guerra e guerriglia non sono la stessa cosa eh? Eh guerriglia è una tattica di guerra che consiste non nell'affrontare per esempio in aperta campagna in ambito campale eh un esercito non in maniera diretta ma con attacchi mirati eh fatti all'improvviso e quindi senza preavviso scusando il gioco di parole che ha l'obiettivo uno di andare a colpire le truppe nemiche da un lato dall'altro lato eh non solo di colpirle ma di fiaccarle nel morale perché quando tu vieni eh attaccato all'improvviso senza che ti venga ti venga detto quando questo avviene e quando questo non avviene e questo può avvenire in qualsiasi momento ecco che allora eh qualsiasi esercito qualsiasi componente di un esercito comincia ad avere paura. Tenete conto che di solito quando è che si fa la guerriglia? Di solito la guerriglia si fa quando o c'è una sproporzione qualitativa tra gli eserciti, c'è un esercito con meno armi, con meno combattenti specializzati contro un esercito più meglio armato e meglio specializzato, più professionale, oppure quando c'è una sproporzione quantitativa, un esercito di grosse dimensioni contro un esercito sparuto allora non ce la puoi fare in un conflitto frontale, oppure ancora quando ci sono entrambe le cose, una sproporzione quantitativa o qualitativa, cioè un esercito numeroso e magari professionale, molto più professionale, molto più specializzato contro un esercito più piccolo e molto più approssimativo. Ecco che la guerriglia è un modo di attaccare il nemico limitando le perdite, a volte proprio riducendola del tutto, e però fiaccando l'avversario che in sé per sé sarebbe più forte. E questa guerriglia, Quinto Sertorio, con le sue truppe locali, a chi la faceva? Ecco, un'altra cosa che mi stava sfuggendo era questa, chi è che fa la guerriglia? Di solito la guerriglia la fa una popolazione già di un territorio contro un esercito straniero. Perché questo? Perché l'esercito straniero non conosce il territorio come lo conoscono gli autoctoni, ossia quelli autoctono vuol dire quelli che sono originari di un determinato luogo. Pertanto, la guerriglia viene fatta di solito dagli autoctoni, cioè dagli originari, dagli indigeni, contro gli stranieri. Perché? Perché loro conoscono meglio il territorio, sanno dove possono fare delle imboscate, sanno dove possono andare a nascondersi in anfratti che il nemico non può trovare o può trovare solo con difficoltà. Quindi questo quinto settorio, con il suo esercito di fedeli spagnoli, combatteva ovviamente contro le truppe romane distanza nella penisola eberica, distanza in Spagna. Che vuol dire distanza? Stanziate, va bene? Stabilite. Quindi, su che cosa si basava? L'impero romano. Imperium vuol dire comando militare, imperare vuol dire comandare militarmente, allora ecco, questo impero come si leggeva? Si leggeva con la forza delle armi. Quindi l'esercito doveva essere presente dappertutto, esercito romano e quindi era presente anche nella penisola iberica, va bene? Questa guerriglia avveniva contro l'esercito romano, distanza in Spagna. Bene, cosa abbiamo visto? Che nel periodo che la dittatura di Silla dura dall'82 al 79 avanti Cristo. A un certo punto, nel 79 avanti Cristo, Silla che cosa dice? Basta, stop, io mi fermo qua. Si ritira vita privata e muore dopo qualche mese nel 78 avanti Cristo. Va bene? Muore Silla. Dice, ma passi da Paolo in Frasca? No, fermatevi, fermatevi. Siamo rimasti alla guerriglia di Quinto Sertorio in Spagna. Però vediamo quello che succede a Roma perché ora le cose si collegano. Allora, nel 78 avanti Cristo, quindi muore Silla e a Roma succede un casino perché Mario era già morto, ma rimanevano i suoi fautori, i suoi sostenitori, quelli che erano dalla sua parte, che appartenevano ai populares e che erano per lo più cavalieri, eccetera. Dall'altro lato Silla muore nel 78 ma rimangono i sillani. Silla aveva come appoggio gli optimates, cioè l'oligarchia senatoria. Abbiamo visto che tutta la sua azione è involta al rafforzamento del Senato e dell'oligarchia senatoria. Bene, era morto Mario, muore adesso Silla, ma rimangono i mariani e i sillani. E i mariani e i sillani, nonostante Silla avesse cercato di blindare le istituzioni repubblicane, purtroppo però questa blindatura delle istituzioni repubblicane in una chiave volta a favorire il Senato e l'oligarchia senatoria non funziona e gli ex seguaci di Mario e gli ex seguaci di Silla proseguono la battaglia, chiamiamola politica, ma non è che sia così corretto, chiamiamola politica nel senso più deteriore del termine, non nel senso nobile del termine politica, ma nel senso più deteriore. Ecco, trovato il termine forse, continua lo scontro tra mariani e sillani, ma non era lo scontro tra mariani e sillani, uno scontro tra l'idealità, l'ideologia, tra virgolette, dei populares e quella degli optimates. In realtà, sia gli uni, i mariani, che gli altri, i sillani, ciò che cercavano di fare rimanere il più possibile attaccati al denaro e al potere. Quindi la lotta politica era volta soprattutto al mantenimento del potere e a usufruire di tutte le possibilità di guadagno che si potevano ottenere avendo posizioni di potere. Quindi, per esempio, ottenendo il governo delle province nella forma di proconsolato o proprietura, ottenendo appalti pubblici per la costruzione di grandi opere, ottenendo anche l'appalto della esazione fiscale, cioè del recupero delle tasse ai pubblicani e alle società di pubblicani, eccetera, eccetera. In questo contesto, dopo la morte di Silla, finito Mario, finito Silla, per 78 avanti Cristo, rimangono però i mariani e i sillani, i seguaci di Mario e i seguaci di Silla, che in realtà cercano solo il proprio potere. Questo portò veramente una serie di disastri nella vita quotidiana di Roma. Tra le figure di ex mariani e di ex sillani che spiccano in modo particolare, ce ne sono tre. Questi tre, chi sono? Ve lo dico subito. Allora, aspetta, ecco qua. Sono esattamente Caius Giulio Cesare, Caius Giulio Cesare, Neus Pompeius, Neus Pompeius, e poi Lichinius Crassus. Licinio Crassus, quindi Cesare, Crasso, e Pompeio. That's right? Ok? Benissimo. Allora, quindi Giulio Cesare, Neus Pompeo e Licinio Crassus. Va bene? Allora, ragazzi, fermiamoci un attimo. Di questi tre, Giulio Cesare era un Populares, va bene? Populares. Ed era un Mariano, ma di Cesare parleremo più avanti. Adesso, invece, parliamo di Neopompeo e di Crasso. Allora, tutti e due erano seguaci di Silla, va bene? Erano sillani, ok? Erano stati tutti e due seguaci di Silla. Pompeo era originario del Piceno. Vi faccio vedere dove è il Piceno, guardate. Allora, ve lo faccio vedere. Lo mettiamo qua. Noi siamo sempre in presentazione. Benissimo. Vi faccio vedere il Piceno. Ecco. Vai. Piceno. Vai. Perfetto. Eccolo qua. Benissimo. Il Piceno è questa zona, è questa zona prospicente al mare Adriatico. Roma è sto pontino qua e si trova qua sul mare Tirreno. Prospicente al mare Adriatico c'è il Piceno che è questa zona qui, va bene? Quindi qui c'è il Lazio e qui c'è il Piceno. Benissimo. Ritorniamo a noi e mettiamo questo. Allora, che succede? Anzi, per ora... No, vabbè, lasciamo scritto qua perché così ve lo posso scrivere. Allora, vediamo di analizzare un attimo la figura di Neo Pompeo. Neo Pompeo veniva dal Piceno, che vi ho fatto vedere dove si trovava, ed era stato un grande, ma grande generale al servizio di Lucio Cornelio Silla. Va bene? Vi ricordate? Abbiamo visto nel capitolo precedente la guerra civile tra Mario e Silla, dove si scontrano gli eserciti e Pompeo, che era un uomo molto ricco, aveva messo il suo esercito personale, vedete quanto era ricco, a servizio di Lucio Cornelio Silla. Va bene? L'aveva messo a servizio di Lucio Cornelio Silla e aveva avuto delle grandi vittorie contro i Mariani in Sicilia e in Africa. Va bene? In Africa vuol dire nell'ex Cartagine, quindi in quella che attualmente è la Tunisia. E allora, dai suoi soldati, dal suo esercito personale, Neo Pompeo era stato detto Magno. Magno. Magno vuol dire grande, Neo Pompeo il grande. Gneus Pompeius Magnus. Va bene? Poi abbiamo invece questo signore, Marco Licinio Crasso, il quale Marco Licinio Crasso era anche lui un sillano nonostante appartenesse agli equites. Va bene? Quindi, come vedete, questo era equites, però anziché essere populares, era persilla. In realtà era tutta gente alla ricerca spasmodica del potere. Allora, era un equites, quindi era un cavaliere in italiano, era un cavaliere e quindi non era un aristocratico e come lavoro faceva l'affarista. Peraltro, questo signore, guardate che persona raffinata, si era arricchita moltissimo approfittando delle liste di proscrizione di Silla. Se vi ricordate, ve lo spiego questa cosa, se vi ricordate, una delle più grosse schifezze che fece Silla con le sue liste di proscrizione fu quella, per esempio, di alienare i beni, cioè di fare incamerare allo Stato i beni delle persone considerate nemiche dello Stato che erano state ammazzate poiché proscritte, oppure i loro beni erano stati venduti all'asta. Bene, questo signore, Marco Licinio Crasso, che era un affarista, ne approfittò smodatamente e già era ricco e divenne ancora più ricco. Il risultato? Questo signore aveva latifondi, cioè appezzamenti di terreno enormi, dappertutto nella penisola italica. Dappertutto, ecco qua, dappertutto nella penisola italica. Va bene? Poi, nella città di Roma, o meglio, sempre un po' in giro per la penisola italica, aveva tante, possedeva tante aziende artigiane, nella città di Roma possedeva centinaia di palazzi e addirittura in Spagna possedeva una miniera d'argento. Cioè era veramente un magnate, va bene? Un vero e proprio magnate. Bene, abbiamo fatto la conoscenza di queste due figure, Crasso e Pompeo. Questi due, questi due, erano gli uomini fra i più potenti di Roma. Ritorniamo un attimo al discorso che vi avevo fatto di Sertorio. Cosa avevo detto? Avevo detto che ai tempi della dittatura di Silla, Sertorio era scappato in Spagna, si era formato quel governo autonomo che vi ho detto e poi aveva dato luogo a quella guerriglia e guerriglia volta con l'appoggio delle popolazioni locali contro l'esercito romano. Bene, va detto che questo esercito romano non riusciva ad avere ragione dell'esercito che praticava la guerriglia di Quinto Sertorio. E allora, nel 77 avanti Cristo, lo ripeto, nel 77 avanti Cristo, il Senato prende Neo Pompeo, Neo Pompeo, quello che aveva vinto in Sicilia e in Africa contro le truppe mariane a favore di Silla e viene mandato in Spagna a combattere contro l'esercito spagnolo di Quinto Sertorio. Va detto che, quindi, Neo Pompeo partì, partì però, partì subito, però, ragazzi, 76, 75, 74, 73, quattro anni, non gli bastarono ad avere ragione, cioè a sconfiggere, ad avere ragione dell'esercito di Sertoriano, quindi a sconfiggere l'esercito Sertoriano. Riuscirà Neo Pompeo a sconfiggere l'esercito Pompeiano solo ed esclusivamente nel 72 d.C., va bene? Nel 72 d.C. E peraltro, sapete, ragazzi, non ci riuscì nemmeno per la sua bravura, ma perché ci fu un farabutto, un ufficiale di Quinto Sertorio che tradì Sertorio, probabilmente per Sghei, per Soldini, e con questo tradimento Pompeo poteva organizzare una sortita con la quale sconfiggere Quinto Sertorio che perse la vita. E allora ecco che solo dal 77, l'anno in cui il Senato decise di mandare Pompeo in Spagna, al 72, la vittoria dell'esercito di Pompeo contro quello Sertoriano avvenne solo a grazie al tradimento di un ufficiale di Sertorio stesso. Benissimo! A questo punto fermiamoci un attimo. Seguite, guardate bene la cartina. Allora, nel 77 Roma nomina Pompeo, eccolo, Pompeo viene qua, combatte per tanti anni. Solo nel 72 batte Sertorio. Nel frattempo, grazie all'impegno militare di Roma, ulteriore, sempre in questo caso per sconfiggere Sertorio e il suo esercito spagnolo, approfittando di questa situazione di impegno bellico, cioè militare di Roma, scoppia una ribellione, una ribellione, una ribellione, aspettate che vediamo subito. Allora, rivolta di Spartaco. Pompeo è la rivolta di Spartaco, no, mi serve immagini, cartina, se c'è un... eh no, ok, questa immagine ora ci serve. cartina, che se immagini ora ci servono. Cartina. Ecco qua, fantastico. Se, apriamolo. Va bene, allora, non vi faccio vedere le battaglie una per una, va bene ragazzi. Diciamo che, ecco, qui c'è Roma, come vedete, qui c'è Lazio, qui c'è la Campania, la rivolta scoppia nel 70... in realtà non nel 71, lasciate stare questo, queste sono le singole fasi. La rivolta, in quanto tale, prende la... prende l'avvio da Capua, ma non, come dice qua, nel 71, bensì nel 73 avanti Cristo. Ricordatevi questa cosa, l'esercito romano era impegnato qua, sconfigge solo nel 72, nel momento di impegno bellico, nel 73, qui in Campania, scoppia questa rivolta, che inizialmente riguardava il gladiatore, il gladiatore di origine Tracia, la Tracia, ragazzi, è questa zona qui, guardate, questa zona qui, corrispondente oggi, se non ricordo male, qua c'è la Bulgaria, va bene, qua c'è la Romania, quindi qua c'è la Bulgaria, e qua c'è l'Ungheria, sì, la Bulgaria, va bene, la Bulgaria, va bene, questa era la Tracia, era uno schiavo di origine Tracia, che faceva di mestiere il gladiatore, e poi sul gladiatore, vi leggete voi, la bella scheda di pagina, la graziosa scheda di pagina 13. Dunque, nel 73 a.C. c'è questa rivolta di schiavi, guidata da questo traccio spartaco, a partire da Capua, e però, ecco, approfittano di questa rivolta che scoppia, gli schiavi un pochino di tutto il meridione, va bene, soprattutto galli e germanici, che lavoravano nelle ville, nei latifondi, nelle aziende agricole, in condizioni disumane. Si legano tutti a Spartaco, l'obiettivo qual era? In realtà, ragazzi, l'obiettivo, ve lo dico io, era quello di andare tutti, spostarsi dal sud, che era una vera e propria prigione, perché era circondata dal mare, andare verso nord, al nord, superare le Alpi, e lì, chi si è visto, si è visto, ognuno ritornare libero, a casa sua. Quindi, l'obiettivo che si erano posti, era questo. In realtà, questi schiavi, questi schiavi, questi schiavi del meridione d'Italia, arrivano, cioè questi schiavi rivoltosi, arrivano alla cifra pazzesca di 150.000 persone circa, 150.000 persone circa, che di fatto si impadroniscono del meridione. Benissimo, ragazzi, a questo punto, che succede? Vi ricordate quello che avevamo visto? Avevamo visto che c'era quest'altro signore, Marco Licinio Crasso, che era ricchissimo, e che viene incaricato di andare a combattere con il suo esercito contro gli schiavi. Effettivamente, con otto legioni, con otto legioni, come si chiama? Vediamolo qua. Porca miseria. Crasso scende in meridione, combatte contro gli schiavi, i 150.000 schiavi, e praticamente questi vengono quasi tutti massacrati. Ne rimangono vivi circa 11.000, di questi 11.000, 5.000 cercano di scappare verso nord. 6.000 e questi 5.000 mischini nello scappare, che cosa succede? Succede che una volta che qui, siamo ormai nel 72, 71, una volta che qui Pompeo ha finito di combattere con Sertorio, lo ha sconfitto, lo ha ucciso, ritorna verso l'Italia e intercetta questi 5.000 e li uccide. Invece, dei 6.000 che rimangono vivi, ecco, la fine che fanno è questa. Ve la faccio vedere. La fine che fanno è esattamente questa. Va bene? Cioè, sulla via Appia, vi faccio vedere adesso la via Appia, via, no, andiamo su Google, andiamo su Immagini, andiamo su Via Appia Antica, mappa. Allora, la via Appia era questa qua, quella che da Roma portava Brindisi. Va bene? Quindi vedete qua si vede meglio, ok? Ecco, no, va bene. Allora, apri immagine con nome, esattamente, va bene, a posto. Come vedete qua c'è Roma, questa via, questa era la via Appia Antica, va bene? Allora, la fine che fanno i romani è questa, gli schiavi è questa. A intervalli regolari vengono crocifissi. Diciamo che questa immagine forse è un po' troppo romantica, questa credo che renda meglio l'idea. Vengono crocifissi, e la gente passava tranquillamente in mezzo a questi corpi, erano proprio barbari, ed erano un monito per coloro i quali avessero avuto nuove intenzioni di combattere. Va bene, ragazzi, ci possiamo fermare qua dicendo questa cosa, dicendo che, peccato, volevo andare un pochino più avanti, purtroppo, però almeno una cosa la posso dire. Allora, almeno questa la posso dire. Dunque, abbiamo visto le grandi vittorie, una di Pompeo contro Quinto Sertorio e di Crasso contro gli schiari, quindi erano proprio trionfanti. Allora, siamo ormai al 71 a.C., Neo Pompeo e Marco Licinio Crasso a questo punto, grazie al prestigio ottenuto con le loro imprese militari, grazie a questo prestigio ottenuto con le loro imprese militari, si candidano al Consolato e nel 70 a.C. vengono propriamente eletti. C'è da dire che la candidatura di Neo Pompeo non era regolare, a differenza di quello di Crasso, perché se vi ricordate una delle regole che aveva messo Silla per poter diventare consoli con la sua dittatura, quella dell'82 al 79, era quella che per potersi candidare al Consolato bisognava essere stati pretori e questori. Pompeo non era stato né pretore né questore. Ma che cosa fa? Come convince il Senato, come fa a convincere il Senato a farsi candidare in una maniera schifosa, come già avevano fatto altri generali da Maria Silla. Ossia si presenta alle porte di Roma, ma senza superare il Pomerio, il confine sacro, si presenta alle porte di Roma con il suo esercito. Non hai superato il Pomerio, il recinto sacro, ma è come se l'avessi fatto, perché stai minacciando. Allora lo candidano e lui viene eletto. Pompeo e Crasso quindi diventano consoli, sono consoli per un anno nel 70 avanti Cristo. Concludo dicendovi che, cosa vi ho detto io? Che Pompeo e Crasso erano sillani. Eppure, quando diventano consoli, che cosa fanno? Eliminano un sacco di riforme volute da Silla. Per esempio, vi ricordate che Silla aveva fatto diventare il Tribunato della Plebe una barzelletta. Prima il Tribunato poteva fare le leggi e poteva mettere il diritto di veto alle leggi del Senato, poi Consilla non poteva più farlo. Bene, Pompeo e Crasso ristabiliscono il potere del Tribunato della Plebe di poter porre il veto alle leggi del Senato, quindi di poter bloccare le leggi del Senato, e dà di nuovo al Tribunato della Plebe il potere di poter legiferare, fare leggi. Uno. Due. Vi ricordate che Silla aveva tolto i cavalieri da quei tribunali che giudicavano i proconsoli, i proprietori, cioè coloro i quali erano stati governatori delle province? Vi ricordate che li aveva tolti i cavalieri in modo tale che a giudicare gli aristocratici che facevano i proconsoli o i proprietori fossero stati altri aristocratici? Bene, che cosa fanno? Pompeo e Crasso li rinseriscono. Come mai tutto ciò, ragazzi? Solo per opportunismo. Perché in realtà il problema di Pompeo e Crasso ma chi se ne frega di Silla, ma chi se ne frega di Mario? Non era né Populares né Optimates, ma Franza, Spagna o Franza, purché se magna. No, Franza o Spagna purché se magna. Franza o Spagna purché se magna. Cioè o Populares o Optimates non aveva importanza, l'importante, il fondamentale era ottenere il consenso affinché si potesse avere quanto più potere possibile. Bene, ragazzi, dovete studiare da pagina 11 a pagina 14 escludendo la campagna di Pompeo contro la pirateria del Mediterraneo e invece pagina 13 va soltanto letta. Va bene ragazzi? Ok, io vi saluto spero di non aver esforato troppo. Ciao! Buongiorno! 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 Grazie.